Allacciamenti abusivi in una delle palazzine popolari del quartiere Crosione. Non c'è pace per i residenti, già alle prese con i continui abbandoni di rifiuti, come raccontato da più riprese. Negli ultimi giorni, all'interno di una delle palazzine del complesso di proprietà del comune, la scoperta da parte di un inquilino, che ha inviato il video alla nostra redazione e allertato nuovamente l'amministrazione comunale. Venerdì mattina, gli agenti della polizia locale e il consigliere comunale delegato al decoro Gennaro Gallo si sono recati all'interno dello stabile, potendo constatare che qualcuno tra i residenti degli alloggi popolari sta rubando l'energia elettrica. Il lungo filo, che dal contatore abbassato di un alloggio conduce a quello della luce del vano Scala, testimonia il furto. Ora non resta che riuscirà ad associare l'infrazione ad un inquilino per prendere poi le opportune decisioni. Per quel che riguarda infine problemi di decoro all'interno delle cantine, l'ufficio casa ha richiesto un preventivo per intervenire nel più breve tempo possibile e ridare decoro alle palazzine e all'intero quartiere.